Eeeh, ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvel Snap e oggi, ovviamente, ovviamente, anche in seguito e in funzione delle varie richieste, ecco che vi propongo il Toxin nella sua forma migliore, o meglio, non nel suo mazzo migliore, ma nel mazzo in cui uno, logicamente, razionalmente, lo mette subito. Toxin, che avete già visto ieri in quello splendido mazzo move, è una carta che ha una logica bounce, perché rimette le carte in mano, e quindi, logicamente, quale miglior carta da riprendersi in mano se non carte on review al decosto basso? Ed è ovviamente in questo modo che è nato il bounce e che oggi, ovviamente, viene sicuramente migliorato dalla presenza di questa formidabile carta, una carta che ancora oggi vi consiglio di prendere, perché secondo me Toxin avrà una lunga vita e sicuramente oggi, giornata degli OTA, non verrà sicuramente nel fata, perché è uscita ieri, quindi, avanti ieri, penso, no? Quindi, oh, se volete stare sicuri, aspettate gli OTA, ovviamente OTA che noi guarderemo questa sera in Last of Twitch dalle 16, e poi ve la comprate, vi faccio vedere il mazzo. Allora, eccolo qua, ovviamente siamo tornati proprio al classico, classico bounce, un bounce che è agente Venom, e quindi un bounce che è a Misterio, e che quindi ha Bishop, no? Ovviamente, effetto cascata, un bounce che preferisce Toxin a Falcon, e ci posso sta, ovviamente anche Falcon sarebbe stato troppo, Toxin tra l'altro scompa ancora meglio con agente Venom, perché prende tre punti in più, Falcon ne prende solamente uno, E niente, per il resto, ovviamente, un bounce. Bishop, ovviamente, carry a tre, invece di Werewolf, ovviamente è un altro mazzo che potete giocare, ovviamente in quel caso con Werewolf andrebbe cambiato qualcosa, e agente Venom va cattato, e questo è, raga, cioè nel senso preparatevi, perché ho già sto mazzo, l'ho visto, l'ho provato, anche stream, preparatevi, è una cosa grossa, grossa! Ok, 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 beh, possiamo iniziare, secondo me, a puntare e a tirare bello dritto su Big House, abbiamo anche Bishop, che è sempre bello da vedere, Eeeh, si, Versepol, drop 1, drop solito, anche Iceman sarebbe carina da mettere sto mazzo, però, non puoi togliere nulla, The Hood e Nico, troppo forte The Hood, Lo stesso vale per Nico e Rocket Dragoon, che riescono veramente a fare punti impossibili, sarebbe incredibile qui topbackare Venom, e con il topback di Venom, considerato anche il fatto che Nico Minoru potrebbe, da un momento all'altro, darci lo spacco 2, sarebbe interessante, magari, no? Possiamo snappare al tipo, un tipo che passa il turno, e non fa niente, ci sta, ci ha pensato un'ora, ma cari, mmm, ok, quindi se vogliamo comunque qualcosa ha fatto, no? Se vogliamo qualcosa ha fatto, eeeh, va, io me la cillo, Venom, devo capire dove voglio fare Bishop, probabilmente lo faremo a destra, credo, In mezzo è una location, riguarda, Hitmonkey, a noi non ci piace tanto Baronia, il fatto che non la possano più cambiare, perché Nico ha già avuto la possibilità di farlo, no? Mi, mi segui, ti torna, eh, quindi, eh, veniamo, veniamo Il tipo è veramente lento, però, non so perché, ok, mazzo con, um, Scarlet Spider, oh Eh, raga, Bishop in mezzo Turno dopo giochiamo Nico, oppure The Hood a vista sinistra Non lo so, non lo so bro, non ne ho idea Non lo so Io farei Bishop in mezzo Vabbè, The Hood a vista, ovviamente OP Bishop a 3 4, 5, 6 Allora, raga Qua la verità è una Che vogliamo do back a Toxin, probabilmente, no? Eh, Toxin sarebbe veramente forte È molto forte sta play pure, eh, però Toxin è veramente OP Vabbè, nel frattempo, come vi dicevo, Bishop scala Eh, abbiamo Sage per poterla giocare Credo su base, non lo so Si, man, ma facciamo una Ma ogni volta così, bro? Mamma mia Oh, signore Stiamo belli freschi 2 ampoule Vabbè, è questo E poi vediamo Purtroppo non posso giocare a Silver Sebo Ma la play è questa Vediamo Problema, ragazzi Che lui potrebbe avere Shadow King in mezzo Eeeh Quindi Prio non la perdo Perché Prio non la perdo mai, qua Ora un'ora Che Bishop scali Un secondino Allora, in teoria la play è molto forte Perché pescando 2 Rimaniamo con una carta nel mazzo Che non è Might Monkey Stai d'accordo con me? Stai d'accordo con me? Stai d'accordo con me? Ehm Stai d'accordo, no? Eh Eh sì, sì Sì, sì, sì Non è Might Monkey Capo Trust Menomala, va Menomala, va Mamma mia, bro Che ansia Che tortura la vita Bro Giochiamo Ok, GG Bello Bello Bello, bello, bello Mamma mia, bro Che olio su te, là Che bello Toxin, ovviamente Ultima carta del mazzo Non l'ho giocata Ma, regà Cioè, nel senso Ti rendi conto di questa carta qui? Tu ti rendi conto, bro 4 8 In realtà no 4 8 11 12 12 punti, bro 12 punti 12 punti per un due manager GG quel plate, bro Complimenti È bilanciata Ci sta Va bene Ehm Andiamo avanti Non c'è niente di Arrivo, regà Eh Arrivo, arrivo, arrivo Sto lavorando Non c'è niente Ehm Ok Nico Spacco due Into un misterio Direi no Kitty Bride Ok Non so Potrebbe essere qualsiasi roba Ehm Star power Sì Star tower Non male Star tower Non male Misterio Vai Tanto come sempre Tanto come sempre con Nico Ragazzi vi ricordo che la carta che spacchiamo è quella a sinistra Giochiamo ovviamente misterio perché vorremmo fare vista vero, cioè vista a destra Credo Ma anche a sinistra in realtà se potrebbe fare Vediamo Ok l'agentement non me l'ha trovato Ehm Noi lo giochiamo un turno in ritardo Ehm Fa vedere un po' che mi dai Mi dai Bast Raga, basta non è male Basta non è male, no? Basta è figo Vai Pena Kitty Bride Ok Ehm Va bene Dovremo fare Bishop adesso, no? Quindi se tappiamo Bishop in mezzo In modo che possa scalare Anche Sage è buona Facciamo Bishop Facciamo Silver Sable Tu novo Facciamo Sage E Tox in sinistra Sei d'accordo con me? Io spero che tu lo sia bro Perché non sembra per niente male Il suo turno Purtroppo non sto pescando Bless One Bro Che ti devo dire Ok Cassandra fa cagare Perché ho pescato due Kitty Bride è forte Ma ci sta Vorrei giocare qualcosa in mezzo Ma che gioco in mezzo? Posso giocare niente in mezzo Quindi continuerò a scalare Cercherò di vincere poi in mezzo Magari con Hitmonkey Vediamo Rocket Dragon Golosa Sage Tox in sinistra Sage Tox in sinistra Ah raga Vi dico la verità Forse facciamo Sage Tox in sinistra Credo Perché voglio prendere i punti in mezzo E secondo me in mezzo Gli spacchiamo il culo Perché siamo anche supportati Da Misterio E poi fare Tox in sinistra Ovviamente Vai E comunque raga Gioca per quattro punti Ok Iron Man è un problema bro Iron Man è un problema Perché potrebbe adesso arrivare Ovviamente Mystic in mezzo Che mi spacca il culo Devo contestare lì destra Per quanto sia assurda Sta roba no? Uno Due Tre Quattro E che dio Una band di buono Perché secondo me Lui fa Mystic in mezzo E in mezzo perdo E poi gioca carta destra Cosmo non lo può giocare Perché c'ho prio Farà Kitty Bride E carta Eh ma non penso che basti Scaricato Dragon Ball Spark in zero Peccato perché il mazzo Era girato veramente Veramente bene E infatti fa Mystic Però Che culo Ah che culo Peccato man Peccato Peccato Come sempre sì L'illusione avrebbe vinto a destra Ma valla Valla a capire prima Peccato Poi ci sta Girato molto bene comunque Molto bene Potevo giocare diversamente Cioè Per come Per come ho messo i misterio A turno due E non poto giocare diversamente Sembra bella Le agente Venom in mano Cioè C'è proprio questa Condizione di Superiorità Capito capo Ok Silver Sable Oh no Mouse Ma c'era tipo Mezzo rotto il mouse Ci sta GG GG Agente Venom Capo Vai E Servirebbe Per scampo di carte Ma Ah è un move Oh maledetto Oh signore Vediamo Mamma mia bro Quello che sta succedendo Sta partita Dio solo lo sa Io non posso credere Io non posso credere che in due partite di fila non mi dà una carta tra Toxin e Sebist amore Non ci posso veramente credere Perché tra le altre cose tra un po' sta roba sarà un disastro perché a turno 4 quando le location si invertono Se io non trovo adesso Se io non trovo adesso Beast o quell'altra so fottuto Cioè non è che so fottuto per carità di Dio Anche per lui non è il massimo e devo essere onesto anche per lui non è il massimo Però fammi trovare le mie caglie Madame Web Quella è eh Non possono sempre per tutto in mano dai credimi È cosmo Avrei trovato Beast ma vabbè lo stesso Hitmonkey Ok Eh sì si è distrutto da solo man perché Si è distrutto da solo Partita forse una delle partite più tristi che ho avuto l'occasione di fare questo mese Ma forse anche questi due mesi Una roba terribile Mamma mia bro Ma quando è che non banzo una carta bro Mamma mia Ma sono depresso tipo Tolsin sei mio fratello bro Ce l'avevo in mano Per fortuna di Dio Passo Ci ho approvato Bro ci ho approvato Si gode Si gode si gode si gode capo Ok Best one a destra E poi si inizia fondamentalmente a Smarmellare su un campo E giocare Toxie Mi servirebbe qualche dropparello a uno Quello va bene Mamma ma Ti dirò Ti dirò Potei peggio Gente Venom Farò vettra con destra Forse si bro Ok top L'unica cosa negativa Che mi toccherà Prendere anche Bless one Però Regà Che vedevo di Va bello ste Oh cringe Va bene Ma ragazzi Quel misterio Sta diventando gigante Gigante Ok Beast lo posso Fa solamente mo E E quindi lo faccio mo Turno dopo Boh Cioè Non lo so E' veramente brutto fare Beast Io Regà Me ne rendo conto Ma che devo fare Cioè Queste sono le carte che ho Di troppo uno Non l'ho trovati Ma perché il mouse Continua a staccarmi Bro Ma che cazzo vuol dire Poi staccarmi Non vuol di niente Staccarsi al massimo Ok E' ripreso Cazzo Che abbiamo visto Qui Abbiamo visto Una giocata Fortissima Da parte su Sono un cretino Man Bless one Non andava preso Va bene Va bene In realtà ci siamo Regà In realtà va bene In realtà va bene E' uno Due Non va bene Non va bene Per un cazzo Ok E' il turno dopo Facciamo Mystery Hitmonkey Silver Sable Secondo me La break E' questo Se no Le voglio snappare Non snappo Regà Non snappo Mamma mia Disperato Me ne sta disperato Anche lui Ma cos'è sta roba Siamo e vinciamo Siamo e vinciamo Ma vinciamo Ragazzi con Mysterio Perché è gigante Mysterio Con doppia Ambasciata Eeeh Questa è la verità Oh L'attivo Ma perché So disgraziatamente Stupido Uno Due Tre Oh Veramente Non ha senso Snappiamo Dai Snappiamo Bro Però Sì Aspetto partite più belle Aspetto partite più belle Da vedere probabilmente Non può vincere Non può È troppo forte Questa roba Non può vincere Non può vincere Ok Bar senza nome Oh Snapman Eh questa è una grande mano Dall'altro Speriamo che lui foldi Speriamo che lui foldi Eeeh Giamo a me Giamo a destra Cazzo ne so Lui fold Cioè no Speriamo che lui non foldi Era la cosa Però vabbè Dio caro Perché poi avremmo fatto The Hood E ci saremmo ripreso Con Toxin No? Quindi dovete snappare Prima di fargli vedere The Hood Vabbè Ok E la merda Le muri a capo Ok Eeeh The Hood Agenda Venom Eeeh Andando vedendo capo Costruendo il nostro futuro Mouse Oggi è veramente impazzito Dunque non so perché Ok Black Swan Speriamo di usarla In maniera corretta Agenda Venom Credo che snapperò A questo punto Fatto niente Vorrei Toxin man La sto pescando Troppo poco Ok Anche meglio Anche meglio Anche meglio Minchia regà Quanto è forte Anche Nico Oddio In realtà manco troppo Bro Quattro carte left Sempre Bishop Lui golla Mi piace man Lui mi piace Magic Ok Nico Minoru Ci deve il cambio campo E spero che ce lo dia Abbiamo un sacco di chance Abbiamo Non è il cambio campo Quello ma non ti preoccupare Non ti preoccupare Nico Minoru Silver Sable Toxin Oppure Chill Oppure Chill E faccio Black Swan Toxin la faccio dopo Ovviamente Silver Sable Nico Silver Sable Il problema ragazzi Me è che avendo Nico in campo Non posso trovare Il cambio campo Capito? Ed è un problema Secondo me Quindi Possiamo fare Black Swan Silver Sable Passo Passo Dai Nico Minoru Dammi sto cambio Oh signore di Dio Non cambio campo Non è un cambio campo Quello E' un disastro O betto col cambio campo E clicco su Black Swan Probabilmente è quello Che farò E vediamo Quello che succede Però mi deve Da il cambio campo Adesso Altrimenti Se non mi da il cambio campo Quanto meno Mi deve Da la copia Della carta In modo che Perlomeno mi copio Sage Qua regà La play secondo me Nonostante limbo E' sempre cliccare Su Black Swan Per farla win in play E se vinciamo Sto partita Siamo forti Se no Siamo delle merde Cioè non lo so Niente Però mi ha dato la copia Come vi dicevo Mi ha dato la copia Va bene lo stesso Allora 8 9 Sage Copia Migo Minoru Copia E Rocket Demon Beast Cercando Rivartutto E vince Sto partita Penso Si sta vedendo Vero Che sta Vai Io ce credo Capo Lui deve andare Anche in mezzo All in Perché se non va All in Risco che io Gli cambio campo E si fotte Dammi un'altra Sage un secondo Veramente una bella Partita questa qua Sage da 18 Regà Guardate che potrebbe Un secondino Fare la differenza Madonna quanti punti Che sto mettendo Madonna Follia Sì poi vabbè Lui non so Se non sarà contro E' un mazzo combo Ma Ah Banco facile Ah ma è un Silver Surfer Qui sei andato lì Perché pensavo che io Cambiassi No Come vince Eh certo Grazie mille per il Cambio campo Ah bro che Dio ce la mandi Buona Che ti devo dire Sbagliato order Mi sa non dovrebbe Vinci No a me Dai sto cazzo di mouse Ma che Siamo impazziti Ma che gioia oggi Ma è follia Sta roba Ma meno male che ho fatto Il turno Niente bro Mouse è morto Incredibile Veramente bro Incredibile Sono sfortunatissima Non lo so bro Non so dove è il mouse Ok Mamma mia Vediamo Fammi gustare No 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 Beh non ha già Do niente Vabbè comunque io Dovevo giocare così In mezzo Perché se no Come cazzo vinco Con Se ci pensi Madonna man Toxin quanto cazzo è Grossa bro Ma come cazzo Perdo Oh Cringe Ma perché abbiamo Fato proprio Sebastian Scusami Scusami Mamma che cringe Bro Ti sto vedendo Il monger Ho perso Scherzo ovviamente capo Sto scherzando Sto scherzando Dico comunque Del location Toxin 14 Sage 27 Signori e signori Bishop 19 Dulce in fundo Sage a 18 Una partita Sontuosa Un masterpiece Bless 1 Cliccata a turno 5 Per provare Ovviamente Un anico Che cambio campo Ma attenzione Perché Nico Poteva ancora Copia a carta E quindi Prendiamo comunque Vantaggio da questa Strategia Gran game Capo Mamma mia bro Annichilito bro Qua l'ho distrutto Distrutto Sto a partire del genere Bro che a me Mi mettono il buon umore Un po' meno sto mouse Non so quello che abbia Probabilmente Reduce Da troppe botte Tirategli addosso Signori Spero che pure Sto video vi sia piaciuto Noi ci vediamo oggi Lei su Twitch Alle 16 Per gli OTA Domani su YouTube Per Il nuovo video Nel mentre Un nuovo proseguo di giornata Un grosso abbraccio E bella Un grosso abbraccio